Ancora un pareggio per l'Arezzo calcio femminile che dopo l'1-1 maturato la scorsa domenica alla Spezia si ripete nella trasferta a Lombarda sul campo del Real Meda. Vivace il primo tempo, ricco di spunti interessanti da entrambe le parti, sebbene le migliori occasioni siano del Lamaranto. Al 27esimo, con una sequenza di dribbling, Ivanova si porta di fronte al portiere del Real Meda e ci prova, ma la palla viene parata. Nella ripresa la partita scende di ritmo, ma al 17esimo le padrone di casa passano in vantaggio grazie ad Antoniazzi, è dunque 1-0. L'Arezzo poi ristabilisce la parità al 35esimo, Vicchiarello su punizione firma il gol del pareggio, infilando la palla sul secondo palo. Pareggio però con rammarico per le ragazze e Amaranto, che complice il successo del Pinerolo con lo Spezia 4-1, vedono diminuire a 5 lunghezze il vantaggio sulle piemontesi. Grazie.